Padova si prepara ad affrontare le vaccinazioni anti-covid di massa allestendo in città 19 tende utili per i medici che dovranno scendere in campo. Il comune proprio nelle scorse ore ha destinato una parte di risorse che sono arrivate con il fondo ristori destinato alle pubbliche amministrazioni. Con 100 mila euro, ieri abbiamo aggiustato anche con un emendamento la variazione di bilancio, acquisteremo delle tende, tende che sono riscaldate ed attrezzate con tutto quanto necessario e serviranno alla protezione civile per allestire delle postazioni utili ad una campagna tamponi capillare nel territorio o eventualmente anche, ospichiamo il prima possibile, anche una diffusa campagna di vaccinazioni. Le prime dosi di vaccino anti-covid dovrebbero arrivare a fine gennaio, secondo il piano di distribuzione spiegato nelle scorse settimane dalla dottoressa Francesca Russo dell'ufficio di prevenzione della Regione Veneto e il comune di Padova non vuole farsi trovare impreparato. Tra un paio di settimane saranno a disposizione circa una quindicina di tende corredate da un centinaio anche di lettini, brandine e poi gli acquisti di tutto il materiale per la pavimentazione, l'illuminazione e il riscaldamento. Il prossimo passaggio sarà quello di individuare i luoghi dove posizionarle. Nel frattempo il comune di Padova ha messo a disposizione numerose sale comunali nei quartieri per i medici di base che stanno effettuando i tamponi rapidi. Dove non ci sono sale disponibili sarà collocata la tenda che rappresenta la situazione più confortevole e soprattutto si tratta di una struttura mobile che può essere spostata a seconda dell'esigenza. I primi ad essere vaccinati, secondo i dati comunicati dalla Regione Veneto al commissario Domenico Arcuri, saranno medici, infermieri, personale sanitario, operatori e anziani nelle case di riposo, circa 32.000 persone nel Padova.